Il 6-4 ha solo una famiglia, riparremo neri! Che cosa vuoi? Ilimina le forze della flotta Remnant nell'area. Attenzione alle fazioni rivali, ma tieni d'occhio la ricompensa. Riforzi, flotta Remnant in arrivo! Lui a terra, C-4! Lui, direttamente a uccisione! Continuate ad avanzare! Lui, direttamente a S.2 è in attesa. Chiamano quando si trova! Preparati a S.2! Scusate! Attenzione! Vai alla grande, pilota. Pilota nemico eliminato. Questa sì che è un'uccisione schiacciante. Attenzione, spiego danno critico. Opzione pratica, nulla particolare per fuggire. Questa sì che è un'eliminazione. Attenzione, pilota nemico amatato. Devastante davvero. Ottimo lavoro, pilota. Questa sì che è un'uccisione schiacciante. Questa sì che è solo. La, ma andrea, ma andrea, ti sono così che rolla. Sì. Non matters, nessuno mi ha chissà. Non 방송 uploading. Non turns,ół. I localizzati. Fu. Lo. L'abbassino! Adoro veder cadere le Ion! P.I.S. Dai Tumino! Abbiamo riscattato una pancia! C.S. derni. Questa grandola è grande, continuate, sei quattro! Continuando via. Arnangelo, sai? Sì. Dai, domina! Attenzione, pilota nemico, pilota nemico distrutto. L'operazione è davvero, ottimo lavoro, pilota. Passi salga, via, domina! Sì, attra-ta-ta-ta, domina! Trompa, chiudono, ti ho occhio! A presto. 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 A presto.